è il giorno nel quale celebriamo tutti i santi del paradiso preghiamo insieme a loro e da loro impariamo cari fratelli e care sorelle benvenuti e bentornati nel nostro canale youtube della redazione papa boys vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera la nostra fede ed anche far crescere il canale oggi vogliamo pubblicare sul nostro e vostro canale preferito la supplica a tutti i santi del paradiso per chiedere grazie ed imparare a vivere meglio la parola di dio chiama santi tutti coloro che nel battesimo sono stati scelti da dio per essere conformati a cristo la solennità di oggi è la festosa memoria di quanti hanno coraggiosamente ed eroicamente realizzato per dono di dio questa conformità a cristo rallegriamoci dunque nel signore perché il suo amore si manifesta in tanti modi diversi attraverso la vita operosa di quanti prendono sul serio il vangelo unisciti a noi in questo momento di profonda fede mentre ci immergiamo insieme in questa preghiera che ci offre conforto ispirazione e la possibilità di riflettere sulle sfide e le gioie delle nostre vite la vostra presenza qui è per noi motivo di grande gratitudine e il vostro costante sostegno ci spinge a continuare a condividere queste esperienze spirituali auguriamo ognuno di voi una preghiera significativa e arricchente colma di serenità e speranza preghiera per la festa di tutti i santi ti supplichiamo dio nostro padre per i poveri del mondo e il cui numero cresce sempre di più sveglia la tua chiesa e venga il tuo regno perché ci sia anche per loro vita in abbondanza noi ti preghiamo ti supplichiamo dio nostro padre per gli afflitti ai quali hai promesso consolazione fa che i potenti del mondo non li lasciano nelle lacrime della disperazione e sostienili con la tua speranza noi ti preghiamo ti supplichiamo dio nostro padre per i miti e i puri di cuore vedi come sono esposti alla violenza e all'inganno fa che la luce del loro esempio guarisca la terra dalla cattiveria noi ti preghiamo ti supplichiamo dio nostro padre per quelli che hanno fame e sete della giustizia e che perciò sono esposti ai colpi di chi fa dell'ingiustizia il proprio privilegio sostienili con il tuo santo spirito che rinnova la faccia della terra noi ti preghiamo ti supplichiamo dio nostro padre per gli operatori di pace impegnati a disarmare le mani e i cuori a distruggere le armi e a costruire strutture di solidarietà fa che siano riconosciuti e ascoltati come tuoi figli prediletti noi ti preghiamo amen 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 alleluia fratelli e sorelle supplichiamo dio insieme ai nostri santi sono i nostri fratelli maggiori che lavate le loro bestie nel sangue dell'angelo ora lo seguono ovunque vada venga l'angelo con il turibolo d'oro prenda l'incenso della nostra supplica e lo offra sull'altare prezioso del santuario del cielo alla presenza di dio insieme con le preghiere di tutta la chiesa amen 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 alleluia grazie cari fratelli e sorelle per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera continuate a coltivare la vostra fede e da pregare con fiducia sapendo che dio è sempre con voi e la mamma celeste non ci abbandona mai vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza la fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera la nostra fede ed anche far crescere il canale arrivederci a tutti al prossimo video insieme nel canale youtube della redazione papa boys dio ci benedica